Sono iniziati da alcune settimane i lavori per il completamento della Sassari-Alghiero, con il lotto di 6 km che unisce lo svincolo di Olmedo all'intersezione della strada statale 291, la cosiddetta strada della Nurra, ma nel frattempo sono spariti i soldi per l'ultimo lotto. A denunciarlo è il consigliere regionale del PD Mario Bruno. I soldi che mancano, dice Bruno, sono quelli per il lotto che comprende la circonvalazione di Alghero e il collegamento con le direttrici per Bosa e Villanova-Monteleone. Dopo lo stop ai lavori della Sassari-Olbia, conclude Bruno, assistiamo anche a quello per la Sassari-Alghiero.